buongiorno e ben trovati cari amici radioesportatori e telespettatori al nostro appuntamento domenicale con il dubbio buongiorno Pietro buongiorno Francesco buongiorno a tutti voi che ascoltate sempre più numerosi mi raccomando allora oggi Pietro siamo siamo giunti a pochi mesi dalle prossime elezioni europee abbiamo avuto già due termometri possiamo dire elettorali del breve giro Sardegna ed Abruzzo e notiamo che comunque il trend che si è avviato ormai dagli ultimi 5-10 anni legato al nuovo popolo quello degli assenzionisti sta raggiunto oltre il circa il 50% degli aventi diritti che non si reca a votare ci siamo chiesti si ci è chiesto già da un po' di tempo il perché non la gente ormai non vota più delle volte si sono trovate con gomitanze con eventi festività do altre ma la realtà è ben altra il motivo per cui questo numero di aventi diritto al voto non esercita il proprio diritto è ben altro e nelle ultime due competizioni elettorali quelle già dello scorso 25 settembre per le politiche nazionali abbiamo visto che all'incirca il 60 per cento si è raccato a votare quindi un 40 per cento non a votare mentre nelle regionale attuale siamo raggiunti quasi al 50 per cento pietro un'analisi fatta diciamo a modo tuo da una persona che legge molto i numeri e legge molto tra le righe quello che sta accadendo la vera realtà di questo nuovo partito perché si è creato una sorta di partito alla fine partito degli assenzionisti quale è e quale è la medicina chiamiamolo così che può sanare questa perdita di contatto con la politica quindi perdita di contatto di mettere in come si dice a a nudo la vera realtà che ha portato la gente ad allontanarsi va bene buongiorno ancora francesco vedi e vedete cari telescoltatori il trend è vero e negativo ma ci stanno da fare delle considerazioni non è vero che le cose nascono così per perché questa disaffezione al voto la fanno scivolare continuare col trend negativo significa avere come ci sta già una deriva di democrazia i sondaggisti quando chiedono qualche cosa ai agli elettori naturalmente commissionati dai gruppi da partite organizzazioni fanno soltanto una parte del loro lavoro dicono quello l'intenzione di voto su quello su quell'altro su quell'altro e ancora e rilegano all'attenzionismo un'attenzione pari a zero e allora chiediamoci perché perché noi abbiamo in italia fino al 92 punte di voto di espressione di voto 80-90% che significa che la gente italiana e il popolo italiano era abituato e voleva votare per quale motivo al di là dei partiti e delle ideologie che all'epoca erano molto forti ma soprattutto perché nell'espressione del voto potevano decidere è il partito ma soprattutto chi poteva essere il loro rappresentante quindi decide dalla scelta dell'uomo l'uomo il ventaglio di partiti senza sbarramento che è importante per cui anche il partito dell'1% magari poteva determinare un parlamentare perché vedete facciamo una piccola parentesi la democrazia si si basa su una maggioranza quantitativa ed è giusto ma non è detto che la maggioranza quantitativa sia pari a quella qualitativa cioè di qualità magari una una piccola formazione può avere al suo interno qualche persona di spessore che con le sue idee espresse non sui social ma espresse in Parlamento potrebbe determinare uno sviluppo comunque una crescita della della nazione Italia in qualsiasi campo ci hanno tolto l'illusione dei partiti con questi due con questo maggioritario è proprio poi con una forma di proporzionale garantista perché bisognava garantire i loro i bipolarismo col famoso bipolarismo assurdo perché gli italiani non siamo per un sistema maggioritario a noi ci piace il proporzionale ma soprattutto siccome pensano che noi siamo deficienti ci propongono la lista votata questa lista i nomini decidiamo noi e il popolo il cittadino italiano non è stupido se lo devi decidere tu il nome il mio voto non ha nessuna possibilità di dire sì Francesco e no a Pietro allora questo fa dire fatevela da solo per quale motivo debbo andare a votare una scelta di partito e vedete anche la la piccola interlocuzione che negli anni 70 80 andava bene quando Iedro Mondanello ha detto mi turo il naso e il volto democrazia cristiana beh io dico una cosa da sempre ancora oggi ancora maggiormente oggi valida non è che votare il meno peggio ci salva perché è comunque il peggio cioè votare il meno peggio di fatto è il peggio ci facciamo una scala di chi va all'inferno all'ultimo cerchio al penultimo cerchio se sono degli anti italiani amministratori contro terzi rimarranno anti italiani amministratori contro terzi sia che si definiscano non che siano di sinistra o che si definiscano di destra in assenza di ideologie in assenza di partiti perché sotto il partito c'è il nomino del leader del momento negli ultimi vent'anni ha cominciato Berlusconi con Presidente Berlusconi quando non era non è ancora possibile in Italia che il Presidente del Consiglio venga a essere stabilito da un voto popolare se non da una contrattazione che si fa all'interno del Parlamento ma soprattutto l'incarico lo dà per fortuna ancora oggi il Presidente della Repubblica benissimo questa cosa la gente la percepisce e allora dice io chi voto chi mi hanno proposto questo cartellone che mi hanno proposto no grazie fatelo da solo perché tanto il mio voto non conta nulla quindi alla fin fine Pietro il problema è proprio questo principale il cittadino il cittadino italiano si è visto desautorato del proprio diritto di voto perfetto allora se non ritorniamo al proporzionale puro senza sbarramento perché dovete avere il coraggio di far arrivare la maggioranza nella maggioranza quantitativa qualche espressione qualitativa che quella qualità che sarà da pungolo che sarà da stimolo alla gente dire vabbè la maggioranza ha vinto e va rispettata però il mio rappresentante quello che ragiona con una testa diversa quello che magari ci avrebbe dovuto dire guardate che fare determinate cure probabilmente in maniera sperimentale non è il caso di farla probabilmente è una voce diversa probabilmente dare armi in una guerra persa dare soldi energie in una guerra persa probabilmente è sbagliato dirlo quando meno guardate una cosa un fatto importante la settimana scorsa c'è stata nel parlorame internazionale un fatto che in Italia naturalmente non se ne è parlato per carità immaginiamoci se i giornalai italiani potevano raccontare questa cosa c'è stato il discorso alla nazione del presidente Biden dello stato della nazione lasciamo perdere quello che ha detto quello che non ha detto come l'ha detto ma il fatto importante che non è stato detto eppure è vitale che sono state arrestate delle persone che dall'ogione urlavano con Don Biden chi erano queste persone erano militari e parenti di militari che erano stati uccise in Afghanistan qualche giorno prima che si ritirassero sapendo perfettamente che sarebbero ritirati e che comunque li hanno mandati a combattere ancora quindi a guerra persa gli americani stessi oggi si stanno ribellando una minoranza va bene vedremo le prossime elezioni a novembre ma sono dati indicativi di una maggioranza di una di una voce che parla di qualità e dice a una guerra persa che senso ha aver fatto morire i nostri figli e i nostri commilitoni questo è stato detto qualche giorno fa dai logioni del congresso mentre Biden stava facendo il suo show e li hanno dovuti arrestare perché dicevano queste cose vogliamo capirlo che in una democrazia comanda certamente la maggioranza ma siccome la democrazia nostra è una democrazia rappresentativa se tu non fai rappresentare il la maggioranza del popolo è è vero che rimarrà sempre eh maggioritaria nella nella quantità ma quando manca il 48 il 50% delle persone che avrebbero potuto andare a votare e che non vanno a votare chi è eletto che si sente così grande così tronfio io ho preso il 25% dei voti ho preso il 40% dei voti ma il 40% del 50% è il 20% nazionale stai decidendo le sorti di una nazione col 20% non è tanto democratico pertanto Pietro quindi questo questa parte diciamo chiamiamolo il partito degli arrabbiati no? perché poi alla fine è l'assenzionista come da quello che tu hai posto come riflessione è quella fetta di cittadini che sono arrabbiati come dicevi con la sinistra e con la destra non è che sono arrabbiati con uno con l'altro ce l'hanno ce l'hanno col sistema col sistema di sono demoralizzati non che arrabbiati sono delusi delusi ci vabbè tanto come va e questa delusione si riflette paradossalmente anche nel quotidiano oggi smettono di cercare lavoro perché tanto non c'è va bene ma quel poco che c'è devo conoscere qualcuno e se io non conosco qualcuno giro a vuoto e allora vivi il reddito di cittadinanza che è un disastro bisognerebbe dare il reddito da lavoro la Repubblica italiana è fondata sul lavoro articolo 1 e la sovranità appartiene al popolo non a una parte del popolo per cui non vogliamo il reddito di cittadinanza vogliamo creare occasioni di lavoro ebbene queste occasioni di lavoro ci vengono tolte ci vengono tolte perché ci stanno quando ci stanno a tanti disoccupati il costo del lavoro il salario scende bene questo è un disastro guardiamo quello che doveva succedere e non è successo in agricoltura perché l'hanno stroncata subito noi continuiamo a pagare arance in questi periodi da 2 euro 2 euro e 20 2 euro e 40 il poveraccio del contadino dell'agricoltore dell'arboricoltore mettiamolo così ha un reddito di 15 20 25 centesimi all'albero il latte il latte quando lo stanno pagando guardate quando il latte è oggi in molte in molte stalle lo stanno buttando perché perché manca la possibilità di portare il latte sulle nostre tavole da 0,15 0,25 0,30 magari per loro è più economico distruggerlo è più economico distruggerlo che metterlo dei governi con quelli che sono stati eletti che sono rappresentanti veramente del popolo non rappresentanti del partito che sono due cose in antite si presa perché magari c'è stata la grandinata e le lanciano le raccolte più questo è il problema e poi facciamo venire l'olio dalla Tunisia con tutti i giri che deve fare e ai nostri olivicoltori gli imponi delle delle pratiche delle norme delle discipline giuste ma non si può essere giusto da una parte e far falloni dall'altra parte questi controlli queste filiere vanno accorciate vanno verificate ma soprattutto il guadagno ecco mettiamolo così il guadagno che poi si traduce il reddito deve essere importante sia per chi produce ma anche per chi consuma perché se i salari sono rimasti allo stesso modo da vent'anni e i costi sono aumentati al banco beh allora significa che la la capacità di spesa si riduce perché se io devo pagare un litro di latte un euro mentre lo pagavo 50 centesimi quando devo pagare la benzina a 2 euro e 20 2 euro 2 euro e 20 quando la pagavo a un euro è chiaro che il mio potere di spesa si contrae nello stesso modo e allora se io devo andare a fare una passeggiata domenica con la famiglia andare a vedere magari che ne so gli scavi di Pompei e mi devo fare 200 chilometri e beh 200 chilometri comincia a essere pesante anche con i livelli di energia perché poi chiaramente dovete mangiare e i costi del ristorante della trattoria di quello che è ma avete visto quanto costano ultimamente i panini quelle cose che chiamano neck negli autogrill ci sono prezzi 7 8 10 euro per un panino e nessuno si sono triplicati i prezzi non raddoppiati triplicati ma nessuno di un panino e mortadella un panino una cosetta con mortadella 6 euro 5 euro e 60 stavo parlando delle vecchie 11 mila lire ti compravi un negozio con 10 mila lire ecco perché il problema rimane sempre in questi governanti che non gliene frega niente perché tanto si fanno le loro liste e saranno sempre lì da una parte e da un'altra non facciamo discussioni è il popolo che capisce queste cose perché non siamo sciocchi non siamo stupidi ah ci voglio fare così ma almeno non avete il mio avallo perché lo sbarramento questa divisione di poli il fatto di avere un maggioritario per un popolo abituato a un proporzionale puro sapendo perfettamente che la quantità e la qualità non vanno sempre assieme la quantità e la qualità sono spesso quasi sempre separate la qualità è quell'1% che viene a essere eliminato perché non fa parte del sistema questo bisogna capirlo questo lo abbiamo capito noi però bisognerebbe farlo capire a quelli che continuano imperterriti perché le prossime elezioni europee sarà ancora scendere è vero che il Parlamento europeo non conta nulla perché quello che conta è la Commissione europea e il Parlamento serve a creare un carrozzone di personaggi che poi avranno un posto in qualche struttura europea però siccome non siamo stupidi queste cose le sappiamo allora prima che sia troppo tardi che arriviamo al punto di non ritorno perché il problema è che dopo il caos c'è la restaurazione questo è un fatto storico e la restaurazione significa che qualcuno domani mattina si alza e dice vabbè mo basta e ritorniamo a quella stagione golpista degli anni 60 lo abbiamo rischiato il golpe oggi stiamo andando in quella direzione ma ci stiamo correndo veramente tanto perché non ci rappresenta più nessuno e io sono terrorizzato da questa cosa questo è un terrore che ti perseguita puntualmente lo stai facendo notare lo stai ponendo alla riflessione di tutti noi quindi alla fine Pietro il problema a monte di questo partito dell'astenzionismo è legato principalmente alla mancanza di una riforma elettorale seria che dia al cittadino al popolo dia al popolo la possibilità di scegliere realmente chi lo amministra e infatti siccome sappiamo che non scegliamo nessuno perché dopo se la fanno tutti loro voglia la preferenza e l'assenza di sbarramento riporterebbero la gente a votare e chi è votato sa che se non fa gli interessi della gente non c'è l'estino che tenga se out questo è e poi dobbiamo dire anche questo una classe politica in grado da poter amministrare una classe politica che passatemi il termine culturalmente preparata sì ma il problema più importante caro Francesco è il fatto che sicuramente se mettiamo la preferenza non la mettiamo al primo imbecile che capita non andiamo allo stadio a scegliere per fare se danno la possibilità a noi se danno la possibilità a noi a farlo se danno la possibilità a noi a farlo sicuramente ognuno scriverà la preferenza rispetto alla persona della lista o dentro la lista che lo rappresenta di più ma lo decide l'elettore non lo decide il segretario di partita per cui questo sarebbe il fatto più importante ritorno al passato perché i nostri padri fondatori sciocchi non erano quindi dobbiamo dire questo un augurio per il nostro futuro per il futuro del popolo italiano per il futuro dell'Italia e il ritorno al passato un passato politico quando come hai detto tu i nostri fondatori della patria i nostri padri fondatori avevano fatto una scelta ben precisa che di certo non è stata dettata da nessun ma dalla coscienza dal voler dare veramente dopo quel ventennio che ci aveva oscurato dopo tutto quello che era stata la guerra le guerre avevano dato fatto capire la necessità che il popolo a decidere a scegliere chi doveva amministrare e chi doveva rappresentare la prossima sulla costituzione questo è importante perché Caramandrei penso che lo conoscono tutti quanti è una delle persone più capaci che noi abbiamo avuto e ha fatto un discorso che secondo me è il manifesto più importante che abbiamo della nostra costituzione la prossima volta diamo già un appuntamento ad analizzare alcuni passaggi di quel discorso magari lo facciamo per il 2 giugno ecco forse magari lo prepariamo per la festa della Repubblica perfetto Pietro va bene facciamo un bel appuntamento dove andremo ad analizzare i vari passaggi del discorso di Caramandrei va bene Pietro allora auguriamo a tutti una buona domenica e alla prossima qui da noi buona domenica alla Ruggera Rolanda ovviamente arrivederci la voce del meridione una voce libera informazione libera che dà voce al territorio e alla gente seguici e iscriviti al nostro canale youtube resta sempre informato grazie a tutti